Lo porterò io! Porterò io l'anello a Markettor. Solo... Non conosco la strada. Ti aiuterò a portare questo fardello, Brado Vecchitz. Hai la mia spada. E hai il mio arco. E la mia ascia. E i miei piselli! Sono Carrefour! Sono i migliori! Portali in viaggio con te! Ti fai una bella pasta e piselli! Col pane di elfico! Va bene! Sempre Carrefour! Carrefour! Sempre Carrefour! Stop! Ragazzi questa era l'ultima Marketta! Bravi tutti! Grande complimenti! Oh grazie mille carissimo! Ragazzi bravissimi tutti quanti! Un trucco impeccabile dei costumi poi! Ma che stiamo facendo? Questi sono filmuncoli per voi che siete bravissimi! Che avete parti! Che avete un sacco di... Oh! Numeri... Parti! Numeri uno! Grandi eh! Che avete un sacco di... Che avete un sacco di... Che avete un sacco di...